Buonasera a tutti quanti voi che già siete collegati o coloro che vi state per collegare Buon fine settimana, buon fine venerdì come sapete noi abbiamo questo tempo che vogliamo dedicare alla famiglia questa sera parleremo dell'importanza dei figli che sono ubbidienti ai genitori e li onorano perché tutto questo? Perché viviamo anche tanti giovani non sono ubbidienti ai genitori viviamo in un'era dove c'è tanta ribellione, dove c'è una mancanza di onore ma tutto questo non è soltanto frutto dei giovani ma è anche frutto ovviamente dei genitori che non hanno speso un po' di tempo in più con i propri figli e così noi vogliamo incoraggiare i giovani al valore dell'onore, al valore dell'ubbidienza ai propri genitori vogliamo parlare questa sera di giovani, vogliamo parlare di ragazzini, adolescenti vogliamo parlare dell'importanza, quanto è importante essere ubbidienti ai genitori e anche onorarli, non soltanto l'ubbidienza ma anche parleremo un po' così brevemente dell'onore ai genitori prima di introdurci in questo argomento facciamo una cosa, preghiamo tutti quanti insieme se sei collegato o non sei collegato comunque sia ti collegherai dopo e potrai associarti a questa preghiera Signore questa sera veniamo davanti a te nel nome di Gesù, ti vogliamo ringraziare, benedire per la tua fedeltà per la tua grazia, per il tuo favore caro e dolce Spirito Santo ti chiedo che questa sera tu parli Signore al cuore di ogni figlio parli al cuore di ogni genitore Signore perché i figli possano onorare i genitori e possano essere ubbidienti ai genitori e ti prego Spirito Santo che anche i genitori possano spendere più tempo per educare i figli per amare i figli, per allevare i figli, per insegnare ai figli nel nome del Signore Gesù Cristo ti chiediamo tutto questo vogliamo benedire questo tempo, vogliamo Signore anche benedire questo canale Signore le telecamere, tutto quello che abbiamo Signore la linea internet perché questo messaggio possa arrivare alle persone Signore che lo ascolteranno tutte quelle persone che hanno bisogno di ascoltare questo messaggio vogliamo ringraziarti e benedirti Signore per l'opera tua nella nostra vita per le grandi cose che tu hai preparato nel nome di Gesù è così si dice ok quindi figli ubbidienti ai genitori ovvero figli che obbediscono ai genitori e anche li onorano l'obbedienza non è un termine tante volte si pensa che l'obbedienza sia un termine negativo come dire brutto credo oggi una parola un po' che è passata di moda ma l'obbedienza produce sempre un risultato positivo l'obbedienza produce sempre benessere nello spirito, nell'anima, anche nel corpo, nell'ambiente familiare nel progresso, nella crescita quindi è importante che i figli possano onorare i genitori e possano essere ubbidienti ma dobbiamo partire da una base la base è quella che i genitori devono insegnare ai figli l'obbedienza e anche l'onore noi non possiamo pretendere dai figli che loro siano obbedienti a noi e ci onorano quando noi non dimostriamo non insegniamo e poi non dimostriamo loro l'obbedienza e anche l'onore che noi abbiamo con gli altri con i nostri genitori, per chi ce l'è ancora oppure con le autorità, con le forze dell'ordine in genere, l'autorità in genere è importante che comunque noi li onoriamo e possiamo obbedire loro la Bibbia dice in Proverbi capitolo 29 versetto 17 correggi tuo figlio egli ti darà conforto e procurerà delizie all'anima tua cosa sta dicendo qua questo versetto? che Proverbi capitolo 29 versetto 17 dice correggi tuo figlio i figli hanno bisogno di correzione hanno bisogno di essere corretti poi dice egli ti darà conforto quindi quando un genitore non corregge suo figlio quando un congenitore non educa suo figlio piuttosto che dargli conforto gli darà dispiacere c'è una benedizione a questa correzione dice egli ti darà conforto e procurerà piacere, delizie all'anima tua per questo è importante che i genitori spendano del tempo per correggere i figli per insegnargli l'obbedienza e insegnare anche l'importanza dell'onore l'autorità dei genitori deve essere usata non per prevarecare sui figli ma deve essere usata a beneficio dei figli quindi è importante che ogni genitore sappia educare i figli spendere del tempo con i figli quindi sedersi con i propri figli la Bibbia dice che il padre deve insegnare ai propri figli quando manca la figura paterna ovvero quando la figura paterna nella famiglia non insegna ai figli c'è qualche problemino e quindi è importante che i padri siano presenti nella famiglia quindi l'autorità non l'autoritarismo ma l'autorità dei genitori deve essere usata a beneficio dei figli per insegnare ai figli e quindi per insegnare ai figli ci sono anche delle regole che un papà deve stabilire nella propria casa nella vita dei figli perché le regole regolano uno stile di vita ora pensate un attimino immaginiamo un attimino in un aeroporto dove non ci sono regole ognuno cerca di fare quel che vuole entra, insomma possono passare dalla porta là dal controllo senza essere controllati dalla guardia possono entrare la qualsiasi cosa un pilota dice no io voglio partire prima un altro pilota dice no io ho un impegno devo partire prima insomma pensiamo un attimino cosa accade in un aeroporto dove non ci sono regole e quindi il caos che ci sarà è non soltanto il caos ma il pericolo che c'è in un aeroporto dove non ci sono regole per questo in un aeroporto ci sono regole ben precise che tutti dobbiamo assoggettarci e obbedire a quelle regole rispettarle e onorarle così avviene anche in una famiglia un padre deve stabilire delle regole per i figli le regole non servono per schiacciare i propri figli ma le regole servono per i figli per educarli per farli crescere bene perché noi in qualche modo e io ne sono testimone sono cresciuto con tanta ribellione sono stato tanto ma tanto ma tanto ribelle ai miei genitori li ho fatti tanto soffrire ho fatto tante cose brutte per fare stare male ai miei genitori perché sono nato con una natura di ribellione quella è la natura noi chiamiamo la natura di Adamo che entra nella vita delle persone quando i bambini iniziano a prendere consapevolezza e coscienza del bene e del male in quel momento entra la natura adamica e inizia la ribellione se i genitori non correggono i propri figli nelle varie fasi evolutive quindi a due anni, due anni e mezzo a tre anni, tre anni e mezzo a quattro, cinque, sei, sette fin tanto che diventano figli maturi se il padre tralascia queste fasi quindi quest'età l'età evolutiva dove deve insegnare ai figli e deve stabilire delle regole si ritroverà un figlio gigante di un metro e ottanta che gli, come si dice solitamente gli balla in testa quindi fa quel che vuole e il padre, il genitore deve assoggettarsi al figlio bene, ti dico, ti parlo questo perché con grande dispiacere e oggi ti parlo con vergogna perché io sono stato un ragazzo così sono stato un bambino un adolescente un ragazzo anche un ragazzo maturo dove sono stato fortemente ribelle ai miei genitori gli ho procurato tante sofferenze e tanti dolori e i miei genitori per, tra virgolette l'eccesso di amore non mi hanno corretto duramente non mi hanno stabilito delle regole in qualche modo loro erano assoggettati a me ma ci sono delle regole che regolano la nostra vita ovvero ci sono delle regole superiori le regole superiori sono le regole divine che io non mi sono assoggettato a mio padre a mia madre non sono stato ubbidiente a mio padre a mia madre nelle varie fasi nell'adolescenza quando ero bambino adolescente e ragazzo ma tutta la mancanza di ubbidienza a mio padre a mia madre e la mancanza di onore me l'ha insegnato Dio e me lo sta continuando ad insegnare ad essere ubbidiente quindi anche se le regole terreni non ci sono state ci sono state le regole divine che mi hanno insegnato come comportarmi e come agire per questo è importante che piuttosto che venga su di noi l'intervento divino è importante che noi come genitori possiamo insegnare ai figli e i figli possano crescere con un giusto e sano insegnamento perché ti racconto una mia breve testimonianza io dal ragazzo ragazzino come dicevo ero molto ma molto ma molto ribelle gliene ho fatte passare a mio padre e a mia madre tantissimi io ho procurato tanti dolori e tanti dispiaceri e un giorno avevo chiesto a mio padre io voglio la moto voglio la moto voglio la moto ancora andavo a scuola perché i miei compagni avevano la moto e mio padre mi diceva ma dice no la moto non te la compro tu non sei ancora in età di avere la moto tu devi studiare devi andare a scuola e io ribellavo ribellavo fin tanto che per fare una ripicca a mio papà mi sono ritirato dalla scuola me ne sono andata a lavorare con un mio zio che apparentemente era uno zio che mi voleva bene mi trattava bene che io andavo a casa sua mi coccolava sia lui che sua moglie perché loro non avevano figli e quindi mi vedevano a me come un figlio mi coccolavano ma ho scoperto poi mio zio sul lavoro chi era veramente mio zio e lui mi ha trattato duramente per insegnarmi le regole di vita che io non avevo voluto imparare da mio papà e obbligatoriamente mi sono assoggettato alle regole imposte da mio zio sul campo del lavoro mi ha insegnato come stare zitto come ubbidire alle regole mi ha insegnato la puntualità mi ha insegnato la fedeltà mi ha insegnato la velocità certo pianto mi è costata sofferenza ma in quel momento non capivo passavano gli anni e poi ho compreso che Dio mi ha voluto io mi sono sottratto all'autorità legittima e Dio mi ha insegnato attraverso un'autorità illegittima ovvero non era mio padre ma bensì era mio zio e quindi Dio si è usato di mio zio per insegnarmi delle regole di vita e per ammodellare per certi aspetti alcune aree del carattere poi Dio ha continuato tutto questo e sta continuando a correggermi ad educarmi per essere sempre più obbediente e poter onorare i genitori poter onorare anche Dio poter onorare le autorità in genere quindi è importante voglio parlare ai figli ai giovani agli adolescenti è importante ubbidire i genitori è importante onorare i genitori ma altresì è importante che i genitori in questo tempo di restrizioni approfittatene per spendere del tempo con i figli per poterle amare ed educarli e stabilire un decalogo di regole di vita nella vostra famiglia ovvero regole comportamentali che il vostro figlio deve avere sia all'interno della casa sia quando esce di casa sia nella scuola sia anche se va a lavorare e quindi è importante questo compito spetta ai genitori poter insegnare ai figli e allevarli nella disciplina dovuta quali sono i benefici delle regole ogni società ha delle regole come dicevo prima negli aeroporti ci sono delle regole in un'azienda ci sono delle regole oggi sono cambiate anche le regole tu prima potevi uscire da casa ti regavi in un ufficio comunale ed entravi oggi non lo puoi fare più devi effettuare una prenotazione e se vai là e dici ma sai io non lo sapevo ti mandano indietro perché dico guardi che è cambiato il regolamento lei deve prima effettuare una prenotazione online dopodiché fissiamo l'appuntamento e lei viene in ufficio quindi in ogni società in ogni istituzione in ogni azienda in ogni ufficio ci sono delle regole come devono esserci anche in una casa delle regole quindi un genitore deve stabilire le regole perché tutto questo possa funzionare in modo collettivo bene eccellente per il nostro progresso facciamo un esempio un'automobilista che guida sulla strada in modo indisciplinato cosa può fare guidando in modo indisciplinato senza regole può portare grovi disagi e quindi può mettere sotto la macchina un pedone può creare un incidente traffico insomma può accadere di tutto perché non rispetta le regole e quindi le regole servono servono per la protezione per un buono stile di vita per un progresso per un bene collettivo di tutti io non vorrei vivere in una città dove non ci sono regole stradali dove le persone iniziano a sfrecciare dove ci sono gli scooter che ti sorpassano a destra un altro ti sorpassa a sinistra dove si cammina in città a 70 80 dove insomma le persone non rispettano lo stop le precedenze non vorrei vivere in questa città ma vivendo in una città e grazie a Dio in questa città dove vivo ci sono delle regole e si rispettano si vive meglio quindi le regole servono per una buona qualità di vita non servono per schiacciarci né per opprimerci ma bensì servono per una buona qualità di vita quindi come avviene nella società tutto questo come avviene per il codice stradale come avviene per un'azienda deve accadere anche per una famiglia un papà e una mamma devono mettersi insieme stabilire un decalogo di regole comportamentali nella propria famiglia che a sua volta devono insegnare ai figli e devono vigilare se i figli attuano quelle regole oppure no ma bisogna insegnarle non per opprimerli o schiacciarli o per come dire usare autoritarismo no devono insegnargli devono spiegare che è importante per il loro benessere perché un giorno anche loro avranno famiglia e se loro non iniziano nella propria casa a rispettare le regole di conseguenza i loro figli non rispetteranno le regole neanche quando loro si sposano e questo succederà un disastro e se ci fermiamo un attimino vediamo tutto quello che c'è nella società oggi viviamo in una società purtroppo dove mancano le regole nella famiglia quindi l'obbedienza cosa fa? l'obbedienza si impara non è per scontato abbiamo noi in una natura dove non piace obbedire non piace rispettare le regole vogliamo fare un po' di testa nostra i ragazzi in particolar modo si sentono già esperti si sentono grandi pensano di sapere tutto ricordo io quando ero ragazzo mio papà mi dava delle direttive io ricordo avevo un papà meraviglioso lui parlava poco ma era incisivo quando parlava e credo che per certi aspetti era profetico perché tutti gli avvisi che lui mi dava io non li rispettavo e mi tornavano tutti in faccia ovvero mi dicevano tutto quello che lui diceva mi tornava tutto in faccia mio papà ha ragione ma mica me ne rendevo subito conto sai quando mi sono reso conto che mio papà di tutte le cose aveva ragione quando mio papà non c'era più quando c'erano a volte dei danni che io ho fatto che sono stati irreparabili dove non potevo tornare indietro ho detto ho riflettuto ho detto ma guarda un po' mio papà aveva ragione ma avevo commesso degli errori dove non potevo più tornare indietro quindi è importante se sei un figlio o una figlia è importante che impari l'obbedienza ai genitori anche se tante volte i genitori sbagliano anche se tante volte i genitori dicono qualche parola fuori luogo fuori posto obbedisci ai tuoi genitori questo ti porterà benedizioni e questo ti preserverà da qualche doloretto o da qualche mazzata sulla schiena quindi impara ad essere obbediente ai tuoi genitori non non nasciamo col gene dell'obbedienza dobbiamo svilupparla e sembra invece che tutto questa obbedienza ci vuole vogliamo respingere questa obbedienza perché vogliamo crescere senza regola vogliamo fare tutto quello che ci pare buono i figli oggi si vogliono ritirare a luna di notte si ritirano a luna di notte un altro dice no io vengo domani mattino un altro dice no boh senti io manco una settimana fra una settimana torno un altro arriva a casa io voglio mangiare a quest'ora un altro dice no senti io non mangio poi invece ci ho ripensato torna e cosa accade entra a casa c'è niente da mangiare tutto questo è frutto di mancanza di regole a casa e viviamo in una società dove nella maggior parte delle famiglie sicuramente non è il tuo caso ma nella maggior parte delle famiglie non c'è ordine io ho visto nelle famiglie dove i figli fanno quel che vogliono uno arriva alle 9 di sera uno arriva alle 11 uno arriva alle 2 della notte uno arriva l'indomani alle 6 perché è andata a lavorare e chiunque arriva dice io voglio mangiare quindi uno vuole mangiare alle 9 uno mangia alle 10 uno mangia alle 11 uno alle 2 di notte uno alle 6 di mattina e tante volte anche i genitori la mamma si mette là a cucinare alle 9 di sera alle 11 di sera alle 2 di notte alle 6 del mattino si mette a cucinare questo è caos questo è disordine ma quindi cosa dovrebbe farsi cosa dovrebbe fare un genitore dovrebbe stabilire delle regole bene alle ore 19 e 30 20 20 e 30 secondo ovviamente gli impegni di lavoro stabilire delle regole per esempio a questa determinata ora si cena e quindi nell'ora di cena dobbiamo essere tutti a tavola come famiglia stabilire una regola che non si deve tralasciare questa regola non dobbiamo infrangere le regole ma ad una determinata ora ci deve essere una regola dove la famiglia marito moglie si incontrano insieme a tutti i figli e nessuno deve tirarsi indietro ma sai oggi ho preso un impegno con un'amica con un'amica a demandare no è l'ora di cena e tutta la famiglia dovrebbe deve riunirsi mettersi a tavola per cenare poi si potrebbe passare per esempio nei dettagli no oggi viviamo in un'era dove c'è tanto benessere abbiamo tanto cibo nelle nostre case c'è cibo in abbondanza a volte siamo pronti a scartarlo questo lo buttiamo quello non mi piace a volte nelle famiglie i bambini già inizia da bambini ho visto bambini a tre anni quattro anni che iniziano ad usare dei linguaggi a tavola ah questa cosa qua neanche voglio pronunciare queste parole usano degli aggettivi discriminatori per il cibo e il papà e la mamma gli permettono di usare queste parole di usare questi aggettivi per il mangiare e la mamma è pronta a prendere un'altra pietanza a metterlo là a soddisfare sempre i capricci dei propri figli no quello che c'è a tavola bisognerebbe mangiare il papà o la mamma o insieme hanno stabilito che quella sera si deve mangiare quella determinata pietanza e tutti dovrebbero mangiare quella pietanza ma se una mamma deve iniziare a cucinare per un figlio vuole la pasta a minestra un altro figlio vuole gli spaghetti al sugo poi viene il marito dice no senti a me fammi una pasta con il sugo del pesce un altro dice io voglio il risotto la moglie dice i capelli tesi dice non ce la faccio più si stressa tutto questo è disordine quindi l'ordine dalle cose molto più elementari molto più semplici dovrebbero un genitore stabilire le regole quando mangiare cosa mangiare quando alzarsi dal tavolo a che ora dobbiamo andare a dormire a che ora ci dobbiamo alzare cosa dobbiamo fare prima di uscire di casa pregare chiedere a Dio la sua presenza la sua gloria la sua benedizione e quindi tutto questo serve per il nostro benessere e i genitori dobbiamo stabilire per coloro che hanno figli i genitori devono stabilire delle regole i figli debbono obbedire e debbono orare i genitori l'obbedienza comporta sempre conseguenze positive la disubbedienza comporta sempre conseguenze negative ci sono due esempi molto belli nella Bibbia una è l'ubbedienza di Isacco e una è l'ubbedienza di Gesù quindi la Bibbia dice che in Genesi che un giorno Dio chiamò Abramo gli ha detto offrimi tuo figlio l'unico figlio che ha Isacco diceva nel monte offrimelo in sacrificio e troviamo nella parola di Dio lo stile di vita che aveva Isacco l'ubbedienza l'onore il rispetto che aveva Isacco nei confronti di suo padre a tal punto che quando Abramo doveva sacrificare suo figlio la Bibbia dice che legò suo figlio e Isacco era un giovane poteva anche ribellarsi e dire padre ma cosa stai facendo perché mi stai legando tu non ti puoi permettere perché io sono già grande io sono adulto e poteva ribellarsi a suo padre ma l'ubbedienza di Isacco l'onore che aveva Isacco verso suo padre perché suo padre stava facendo un gesto ordinato da Dio stava obbedendo a Dio stava in un certo senso sacrificando suo figlio a Dio ma era qualcosa che Dio gli aveva chiesto e Abramo sapeva benissimo che Dio gli avrebbe ridato suo figlio quindi per favore non fraintendere questa parola che tu come genitore devi sacrificare tuo figlio che devi legare tuo figlio per ucciderlo no non fare questo ama tuo figlio quindi non prendere questa parola fuori dal contesto perché dice questo qua ha predicato ha insegnato che devo legare mio figlio lo posso uccidere no non puoi uccidere tuo figlio ma ti sto portando un esempio biblico di onore che Isacco ha avuto nei confronti di suo padre si è lasciato legare non ha parlato è rimasto zitto obbediente a suo padre e Abramo l'ha messo sull'altare per sacrificarlo e Isacco non gli ha detto padre ma tu sei fuori di testa ma perché stai facendo questo io ti maledico no Isacco è rimasto zitto era obbediente è stato mansueto e anche Isacco figura in questo contesto di Gesù che Gesù è stato obbediente fino alla morte e alla morte di croce e un altro esempio è Gesù Gesù la Bibbia dice che lui è venuto dal cielo sulla terra è stato obbediente sottomesso pur sapendo qual era la sua missione Gesù pur sapendo da dove veniva lui si è assoggettato è stato obbediente ai propri genitori la Bibbia c'è un episodio che quando salirono nel tempio per adorare nel tempio quando nel tempo quando si andava nel tempio per adorare poi al ritorno siccome c'erano delle carovane Giuseppe e Maria continuarono a camminare si dimenticarono di Gesù e dopo qualche giorno hanno detto Gesù Gesù dove è abbiamo perso Gesù tornarono indietro e trovarono Gesù chi era seduta in mezzo ai dottori che ascoltava e faceva qualche domanda ai dottori della legge e i genitori di Giuseppe di Gesù gli hanno detto Gesù ma perché hai fatto questo in un certo senso l'hanno rimproverato e Gesù gli ha detto ma voi non sapete che io devo fare l'opera del padre mio ma malgrado questo che Gesù sapeva benissimo che lui era venuto dal cielo qua sulla terra per compiere l'opera del padre ma sulla terra era obbediente stato obbediente a Giuseppe e a Mario ovvero è stato obbediente da bambino da piccolo è stato obbediente ai propri genitori terreni e questo gli ha permesso di crescere anche spiritualmente di adempiere il compito il mandato il proposito che Dio aveva per la sua vita quindi cosa ti voglio dire anche a tutti coloro a tutti quei ragazzi gli adolescenti che magari sono convertiti hanno fatto la preghiera di salvezza stanno servendo il Signore sono inseriti in un contesto della Chiesa e forse non hanno i genitori convertiti ovvero non hanno i genitori in Chiesa non hanno i genitori che credono non fare mai l'errore di dire io sono convertito io so più di te io conosco la Bibbia perché io ho studiato io frequento io faccio gli studi e tu non mi devi dire niente no non fare mai quest'errore se tu sei un buon cristiano se tu studi la Bibbia devi essere sottomesso ai tuoi genitori anche se i tuoi genitori non credono nella parola di Dio o per meglio dire ancora non credono ma crederanno a motivo della tua obbedienza a motivo del tuo onore ovvero come tu figlio sarai nella misura che sarai ubbidiente ai tuoi genitori nella misura come onorerai i tuoi genitori i tuoi genitori si avvicineranno al Signore si avvicineranno in Chiesa perché guarderanno il tuo stile di vita il tuo modo di parlare il tuo modo di rispettarli il tuo modo di onorarli e ai tuoi genitori gli verrà facile poter avvicinarsi a Dio poter avvicinarsi alla Chiesa poter aprire il cuore a Gesù perché hanno visto il tuo cambiamento come tu li onori come tu ebbidisci come tu ti comporti bene a casa ovviamente hanno un compito anche i genitori i figli hanno bisogno non dobbiamo parlare tutti di figli ma i genitori abbiamo anche un compito il compito che abbiamo noi genitori è di fare sentire i nostri figli amati affinché loro possano praticare le regole che noi stabiliamo a casa ma se noi mettiamo solo le regole e pretendiamo che i nostri figli praticano le regole che rispettino le regole senza sentirsi amati nasce fuori la ribellione dei figli d'altronde la Bibbia dice non provocare ad ira i tuoi figli ma levali nella correzione ovvero guidali nella correzione dovuta come al Signore quindi cosa deve fare un buon genitore deve stabilire sì delle regole ma al tempo stesso deve far sentire l'amore proprio ai figli e spiegargli guarda figlio mio figlia mia io sto mettendo queste regole per il bene tuo una cosa molto importante che i genitori devono fare non devono fare le regole adesso da oggi in poi e così ma spiegare quindi anche se come genitori hai preso o stai prendendo delle decisioni da fare un decalogo delle regole da stabilire a casa non pretendere che da un giorno all'altro da una settimana all'altro tuo figlio comprenda tutte le regole che ti obbedisca che rispetta tutte le regole ma fai un'introduzione progressiva spiegando l'importanza delle regole ma soprattutto trasmettendo il tuo amore stabilendo anche delle regole spiegando il beneficio di queste regole ovvero il beneficio che produrranno queste regole nell'applicare nella propria vita però una cosa molto importante dobbiamo dire che non possiamo noi genitori dire ai figli ci sono le regole bisogna rispettarle quando noi non le rispettiamo è importante che noi per primi come genitori rispettiamo le regole affinché i figli possano altresì rispettarli un genitore deve essere coerente equilibrato al tempo stesso amorevole gentile ma al tempo stesso fermo irremovibile quindi è importante che un genitore sia buono amorevole gentile ma al tempo stesso sia stabile e fermo quindi dobbiamo insegnare i nostri figli anche a onorare altri ricordo quando ero bambino sentivo parlare le persone anziane dell'onore del rispetto che avevano per faccio un esempio una persona anziana ricordo dalle mie parti io sono siciliano per quanti non hanno compreso ancora il mio il mio accento anche se sono qua in Friuli amo questa terra ma sono nati in Sicilia ovvero sono nati in cielo sono venuto insomma mia mamma mi ha partorita in Sicilia Dio mi ha portato in Friuli in una terra meravigliosa ricordo quando ero in Sicilia ogni tanto cerco di dare qualche battuta ricordo quando ero in Sicilia sentivo parlare le persone anziane dicevano queste persone anziane che i propri genitori prima non li chiamavano gli davano del tu ma gli davano del lei come senso di rispetto e di onore ovvero c'era un distacco tra il genitore e il figlio e il figlio onorava a tal punto il genitore da darle del lei oggi tutto questo si è perso io sento figli che dicono ai genitori mentre sono a tavolo mentre insomma stanno discutendo gli escono cosa dalla bocca dal rabbrividire cioè figli che usano un linguaggio verso i genitori veramente molto ma molto brutto cosa deve fare un genitore deve insegnare i figli il proprio figlio a onorare se stesso la famiglia gli impegni ma anche a onorare gli altri per esempio a onorare i nonni prima ricordo che nelle famiglie la domenica la famiglia andava a trovare i nonni e quindi cosa accadeva che i nipoti dovevano onorare i nonni dovevano avere grande rispetto per i nonni e tante volte c'erano i nonni che insomma forse qualcuno si inceppava a parlare forse qualcuno era senza denti forse qualcuno ripeteva sempre le stesse cose e ricordo che quando un ragazzo si permetteva di prendersi gioco ovvero di mortificare il nonno il genitore gli dava uno scappellotto dietro qua nella nuca dicendo che non doveva permettersi quindi lo mortificava perché un genitore doveva insegnare il figlio a onorare i nonni a onorare gli zii a onorare le persone più grandi le persone più anziane a portare il rispetto un genitore doveva insegnare i figli a onorare l'insegnante della scuola il maestro la maestra il professore il carabiniere il poliziotto il vigile urbano e quindi un genitore doveva prima educare i figli ma questo bisogna farlo queste regole non sono cambiate ancora oggi dovremmo attuarli un genitore dovrebbe usare queste regole verso i figli non lasciarli così non lasciare tuo figlio a se stesso quello che vuole fare fa no è importante che il genitore insegna i figli a onorare le maestre sin da piccolo sin dalla scuola primaria sin dalla prima dalla primina dalla seconda dalla terza nelle scuole elementari a onorare i professori perché questo è buono ma oggi viviamo anche in una società dove cosa accade che magari i figli vengono dai genitori e gli dicono ai genitori sai papà la mamma il professore mi ha trattato così e il papà dice domani ci vado io da questo professore io ne dico quattro e quindi magari davanti al figlio il genitore col figlio davanti mortifica il professore o il maestro o la maestra l'insegnante quel che sia questo non è giusto farlo bisogna che un genitore ponderi e dica ok tu hai fatto la tua parte hai rispettato il tuo maestro la tua maestra il tuo insegnante quel che sia il tuo professore l'hai rispettato l'onorato hai fatto del tuo meglio e quindi se anche il professore il maestro ha sbagliato nei confronti di tuo figlio tu non devi come dire prevaricare devi dire ah domani ci vado io gli vado a dire io questo qua è così ecco lì no gli dirai a tuo figlio ok va bene tu intanto si obbediente onora la prossima riunione che avremo a scuola ci andrò io e parlerò io con l'insegnante ma tu intanto continua a comportarti così ti vorrei raccontare una testimonianza sempre di quel spero che hai tempo di ascoltarmi bene stiamo quasi per terminare ricordo sempre quell'episodio dove sono andata a lavorare da mio zio dal ragazzo mio zio mi trattava duramente io facevo il manovale iniziai lavoravo in un cantiere edile facevo il manovale a mio cugino che era insomma un operaio qualificato mi ha insegnato tante cose ma mi faceva produrre sempre di più degli altri mi ha insegnato la velocità ma allora non comprendevo la velocità mi ha insegnato la puntualità ma allora non comprendevo la puntualità mi ha insegnata a produrre bene ma allora non capivo tutto questo perché c'era questa ribellione ricordo che un giorno abbiamo fatto in una giornata lavorativa dalle sette del mattino fino alle diciassette di sera abbiamo prodotto il doppio di lavoro che producevano altre due persone mi sono ribellato mi sono scocciato ho detto tu mi stai sfruttando non è giusto tutto questo io sono pagato meno degli altri e devo produrre di più tu sei fino all'ultimo mi tratti male mi sono ribellato al punto tale mi sono litigato e alla fine della giornata me ne sono andato torno a casa e gli dico a mio padre basta io non ci vado più a lavorare perché mi trattano male perché me ne dicono di tutti mi fanno io devo lavorare il doppio di tutti ma devo essere pagato meno di tutti non è giusto è uno sfruttamento e mio padre ricordo ti sto parlando sono passati quasi 40 anni 38 anni giù di lì sono passati ancora mi ricordo questo e mio padre con molta calma mi ha detto va bene Maurizio tu non ti preoccupare adesso ci penso io mio padre se n'è andato nella stanza di là ha parlato con mio zio che era suo fratello hanno parlato tutto quanto poi mio padre con tanta calma con tanta tranquillità lui era molto tranquillo era molto tranquillo con tanta calma mi ha detto dice va bene dice domani vai a lavorare tranquillo io ho detto ma io vado a lavorare di nuovo faccio il manovale a suo figlio io non lo faccio mio padre mi ha detto non ti preoccupare tu vai vedrai che non lo farai vedrai che le cose si stemeranno mio padre mi ha assicurato mi ha rassicurato io l'indomani sono andato a lavorare bene ti dico che mio zio mi ha rimesso di nuovo a lavorare con mio cugino e sono dovuto stare zitto mi ero ribellato davanti a tutti gli operai ma mio zio poi ha fatto la voce grossa sono dovuto stare zitto in quel momento non ho compreso ma ascolta io ti sto parlando per esperienza sono passati anni e quando sono rientrato in me stesso ho detto grazie a Dio che anche se io non conoscevo Dio allora anche se i miei genitori non conoscevano Dio dico ringrazio Dio perché Dio si è usato di mio zio si è usato di mio cugino per darmeli sulla schiena per insegnarmi la correttezza la velocità la puntualità lavorare bene a dare il meglio a produrre il massimo ad essere puntuale ad essere ordinato a mettere le cose in ordine me le ha insegnate mio zio e mio cugino e mi hanno insegnato le regole ad una determinata ora mi dovevo essere pronto per lavorare non perché ero il nipote non perché ero il cugino vabbè ma arrivo un po' più tardi mi hanno insegnato ad essere il primo ad arrivare sul posto di lavoro mi hanno insegnato ad uscire dal cantiere l'ultimo mi hanno insegnato a produrre molto di più degli altri mi hanno insegnato a produrre molto meglio degli altri quindi io mi sono sottratto dall'ubbidienza a mio padre e mi sono dovuto assoggettare obbligatoriamente all'autorità di mio zio e di mio cugino bene mi è andata bene perché mi hanno insegnato mi hanno formato per certi aspetti nella vita mi hanno insegnato anche a lavorare mi hanno insegnato la velocità nel produrre bene mi hanno insegnato tante cose mi hanno insegnato anche a onorare gli altri così una cosa molto importante genitori insegnate e figli a onorare gli altri quindi ad essere a formarli insegnarli per poter insegnare altri i figli come è stato detto hanno bisogno di essere amati per primi dopo insegnati e formati se non li abbracci non li ami non puoi insegnarli né formarli perché si ribelleranno contro di te genitore i figli devono avere rispetto delle autorità io a mia vergogna ti dico sono cresciuto in un ambiente dove non avevamo rispetto per le autorità civiche per le forze dell'ordine se qualcuno quando vedeva un carabiniere un poliziotto diceva mamma mia in Sicilia insomma si usano determinati linguaggi che non sono per niente bene molto volgari discriminatori offensivi tutto questo non li onorava nel tempo dopo ho imparato Dio mi ha insegnato a onorare ad avere rispetto per le autorità quale forza dell'ordine quale datore di lavoro mi hanno insegnato Dio mi ha insegnato ad avere rispetto per le autorità spirituali per il pastore per le autorità più anziane mi ha insegnato Dio ad avere rispetto per il datore di una determinata il proprietario di un'azienda Dio mi ha insegnato tante cose i genitori quello che non ho avuto la possibilità che me lo insegnasse mio padre mio padre biologico naturale me l'ha insegnato Dio me lo sta continuando ad insegnare Dio ad essere ad avere rispetto per le autorità i figli figli dovete avere rispetto per le autorità per i genitori per i nonni per i pastori per coloro che siete in una chiesa per gli insegnanti per i datori di lavoro dovete avere rispetto figli negli orari di lavoro tu non devi usare scusami se mi abbasso il cellulare per i tuoi fini per le tue cose quando tu vai a lavorare devi onorare il datore di lavoro mettendo da parte il cellulare perché se vai a lavorare il datore di lavoro ti paga per produrre tu non devi fare uso del cellulare per un fine tuo personale perché ti chiama la ragazza ti chiama il ragazzo ti chiama il ragazzo quando sei a scuola che stai ascoltando le lezioni non ti mettere sotto il banco con il telefonino per capire un attimino se ti è arrivato il messaggio del ragazzo del ragazzo onora e rispetta l'insegnante perché sta offrendo a te un servizio sta offrendo a te qualcosa che ti serve per la vita ma se tu sei distratto o distratta dal guardare il cellulare perché ti ha scritto l'amico o l'amico il fidanzatino quello che ti piace ti sei innamorato o innamorata di quello là se ti pensa se non ti pensa se ti manda il cuoricino ti stai perdendo una lezione quello non è un modo di onorare lì autorità il tuo insegnante è un'autorità devi onorarlo devi onorare il tuo datore di lavoro devi onorare anche quando ti fermano i carabinieri quando ti ferma la polizia e tu sei in disordine con i documenti con la macchina ti fanno una multa non dire parola offensiva e negativa ma ringraziali perché se ti hanno fatto una multa è perché ti vogliono educare sei là e quindi questo ti serve anche per correggerti nella vita e per essere una persona rispettosa il bambino o il ragazzo impara dall'esempio dei genitori per questo è importante che i genitori siano un esempio mi piace quella scrittura dove l'apostolo Paolo scrive a Timotio suo figlio nella fede gli dice sii d'esempio ai fedeli Timotio era un giovane pastore in una chiesa e lui doveva essere un modello un esempio nella chiesa e credo che un padre debba essere un modello e un esempio nella casa un modello di preghiera un modello di santità un modello di consacrazione un modello che rispetta le regole un modello che rispetta gli orari di lavoro che rispetta il datore di lavoro se il padre è un esempio gli verrà facile educare i figli ma spetta al padre la correzione proverbi capitolo 29 versetto 5 dice la verga e la riprensione danno saggezza ma il ragazzo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre o ai suoi genitori quindi un ragazzo non devi lasciarlo a se stesso non devi lasciarlo senza regole non devi lasciarlo senza un ordine ma devi stabilire delle regole devi essere ordinato anche tu devi essere un buon esempio un buon modello come genitori i bambini già 3-4 anni hanno bisogno che i genitori gli insegnino a dire grazie arrivederci per favore ad usare parole di gentilezza non quando saranno grandi non tutti i bambini già 3-4 anni devono iniziare a comprendere che non tutto gli è dovuto tu come genitore non devi sempre accontentarti ed accontentare il tuo bambino di 3-4 anni perché piange strilla gli dai sempre lo smartphone nelle mani così te lo scrolli di dosso e sta davanti allo smartphone a guardare cartone animati a guardare tutte le porcherie che ci sono in internet il bambino a 3 anni 2 anni deve comprendere il valore che ha uno smartphone deve comprendere che ci sono cose che si possono fare alla sua età cose che non si possono fare ma se io come genitore sto tutto il tempo col cellulare nelle mani con lo smartphone nelle mani il bambino sta guardando sta osservando me già fin dalla tenera età e vuole avere tutto il giorno lo smartphone anche lui e farà di tutto strillerà farà capricci smantellerà la casa metterà la casa in disordine farà di tutto perché lui possa avere anche il suo smartphone durante il giorno tutto il giorno con stare davanti lo smartphone con tutte le applicazioni possibili immaginare perché perché vede noi genitori che tutto il giorno stiamo a smanettare a guardare giochini a guardare cose sullo smartphone i figli guardano e diciamo perché tu lo fai lo faccio anch'io e quindi i genitori dovrebbero stare attenti quanto uso fanno del cellulare e che tipo di cose guardano sullo smartphone perché stai attento che a volte ci sono genitori che usano lo smartphone per guardare cose che non dovrebbero assolutissimamente guardare e pensano che i figli non vedono o non ascoltano la voce che esce quindi stai attento come genitore cosa guardi nello smartphone se ci sono cose tossiche che stai guardando nello smartphone che ti danno solo ti fanno soltanto intossicare ti creano soltanto problemi nella tua vita nella tua salute mentale spirituale nella tua salute matrimoniale nella tua salute familiare dove i figli di conseguenza vengono contaminati allora è importante se sei genitore e hai figli piccoli stai attento a quanto tempo spendi davanti al cellulare stai attento a quanto tempo spendi con lo smartphone perché tuo figlio ti sta guardando e tuo figlio pretenderà lo smartphone suo e ti dico una cosa che pretenderà quello superiore superiore a quello che hai tu vorrà il migliore smartphone e si scaricherà tutte le applicazioni che tu neanche conosci forse si scaricherà cose che saranno tossiche per il bambino o la bambina e tu neanche te ne accorgerai perché non hai stabilito delle regole quindi è importante che come genitori sia un esempio non usare tanto smartphone non stare tanto davanti alla tv o ci sono tanti alcuni che stanno nella playstation o stanno davanti alla tv di nascosta a guardare cose che non dovrebbero per un buon uomo un buon padre un buon marito una buona mamma una buona moglie un buon genitore non dovrebbe guardare stai attento perché i bambini guardano passano forse a te ti sembra che i bambini sono a terra che giocano sono presi dai suoi giocattoli mentre tu stai guardando nella tv altre cose pensi che i bambini non ascoltano i bambini possono essere fisicamente in un luogo ma l'udito ce l'hanno in altre cose quindi è importante che come genitore sia un modello un esempio per i tuoi figli una cosa molto importante che i figli devono imparare ma l'imparano anche dai genitori esprimere il dono dell'onore come si esprime il dono dell'onore con le parole con i gesti quali sono i gesti per esempio quando arriva qualcuno a casa un familiare un amico un parente è vero che insomma adesso familiari non possono arrivare ma ci prepariamo amici non ne possono arrivare a casa ma dico ci prepariamo per quando toglieranno le limitazioni ci prepariamo anzi è un modo per insegnare i figli per educare i figli per insegnare le regole che quando verranno gli amici e i parenti a casa tua non lasciare che i bambini continuino a fare le sue cose insegna ai tuoi figli che devono alzarsi per salutare lo zio la zia l'amico il nonno quel che sia o anche i genitori io a volte vedo io sono un osservatore vedo che il papà rientra a casa o la mamma rientra a casa e il figlio neanche si degna di andare a salutare il papà o la mamma arrivano a volte io ho guardato che arrivano familiari e i bambini ragazzi adolescenti ragazzi non si degnano minimamente di alzarsi dalla sedia e andare a salutare la persona più adulta restano seduti ed è la persona più adulta guardate mi è successo a me non dico l'ho fatto io appositamente tante volte l'ho fatto svelo un segreto lo faccio appositamente per tastare l'educazione delle persone e attraverso l'educazione dei figli vedo l'educazione dei genitori quello che non hanno dato sono io a volte che mi chino e vado io a salutare quando entri in un ambiente ma la persona neanche si degna di alzarsi dalla sedia questo non è non è onore questa è mancanza di onore mancanza di rispetto e i genitori devono insegnare i figli che quando arrivano un familiare un parente un amico una persona più adulta devono alzarsi dalla sedia andare incontro ad avere gesti di onore per salutare per dire buongiorno ciao farli accomodare e poi quando gli ospiti o i familiari parenti si siedono loro dopo si accomoderanno quindi il gesto di onore significa prima fai accomodare gli amici e i familiari che ti sono venuti a trovare e poi ti accomodi tu ma se tu come genitori non usi questo non insegni ai tuoi figli sappi una cosa che quando tu sarai adulto quello che hai tralasciato oggi di insegnare ai tuoi figli si ripercuoterà verso di te per questo è importante che i genitori insegnano i figli ad avere gesti di onore un altro è non interrompere quando due persone adulte stanno parlando e oggi vediamo un po' nei giovani due persone adulte stanno parlando e i bambini i ragazzi si intromettono con discorsi interrompono questa è cattiva educazione questa non è onore e quindi un genitore deve insegnare i figli a quando può intervenire il figlio deve dire posso dire una cosa papà posso dire una cosa mamma posso fare un intervento e aspettare il figlio deve aspettare che la persona più adulta il genitore gli dia il permesso di poter dire la sua ma un figlio non può quella cattiva educazione mancanza di rispetto mancanza di onore intervenire o parlare sopra il genitore o dire anche parole offensive ai genitori questo non è io credo che Dio ci voglia rieducare voglia rimettere ordine nelle famiglie voglia rimettere ordine nei figli voglia rimettere ordine nei matrimoni nelle coppie perché vengano stabilite delle regole e ci possa essere una qualità di vita migliore rispetto a quella che abbiamo avuto fino adesso perché abbiamo infranto le regole abbiamo disprezzato l'onore e ci siamo ritrovati in mezzo ad una società senza valori senza onore senza rispetto per nessuno ok ok il vero onore viene espresso con gesti di gentilezza verso i genitori verso le autorità in genere un secondo modo come i figli esprimono onore ai genitori è nelle parole di stima quindi dire parole di stima papà ti apprezzo ti voglio bene grazie per quello che hai fatto per me per come mi hai educato per come mi hai cresciuto una cosa molto bella che dovrebbe fare un figlio prima che si può non sto dicendo un'eresia ascoltate un attimo non sto dicendo un'eresia è una cosa che dovrebbe essere i figli dovrebbero uscire di casa dai propri genitori quando si sposano o quando si devono sposare non quando vanno a convivere che un figlio dice arrivando a un certo punto dice ok io sono già grande ho conosciuto una compagna esco di casa me ne vado a convivere o viceversa la ragazza dice me ne vado a convivere un figlio ascoltami non è un'eresia questa è una regola è una questione di onore un figlio dovrebbe uscire di casa dai propri genitori quando si sta per sposare ovvero l'ultima sera di nozze l'ultima sera prima delle nozze un figlio dovrebbe fermarsi o se lo fa anche una settimana prima durante l'ultima settimana o l'ultimo mese un figlio dovrebbe fermarsi sedersi con i genitori la sera prima la settimana prima delle nozze dovrebbe dire papà mamma vi ringrazio perché mi avete portato a questo punto che mi avete cresciuto che mi avete onorato mi avete dato da mangiare mi avete dato il dono della vita che quando io non sapevo mangiare voi mi avete imboccato che quando io avevo stavo male mi avete curato mi avete sopportato nei momenti di difficoltà nei momenti di ribellione mi avete dato un'educazione e prima che io esco di casa che mi unisco con la mia moglie o la donna dice verso me prima che mi unisco voglio ringraziarvi e quindi usare parole di stima e di rispetto di onore verso i genitori guardandoli negli occhi non che tanti come ho fatto anch'io perché non voglio fare il maestro mi mortifico di quello che ho fatto prima di conoscere Cristo certo se l'avessi fatto se gli avessi conosciuto Cristo forse non mi sarei comportato così o forse mi sarei pure comportato così non lo so ma ti dico che oggi sono arrivato a questo e voglio trasmettere voglio incoraggiare i giovani a comportarsi in modo degno dell'Evangelo di Cristo che prima che escono di casa possono onorare i genitori possono usare parole di stima e di apprezzamento verso i genitori dicendo papà questa è l'ultima notte mamma questa è l'ultima notte che io dormo qua a casa vostra perché so che da domani io mi unirò a mia moglie a mio marito me ne andrò per casa mia ma voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto usare parole lodevoli per i genitori ma se tutto questo non avviene un figlio esce dalla casa dei genitori ahimè senza la benedizione un figlio dovrebbe andare via dalla casa dei genitori con la benedizione e anche se non te la dai tuo padre e tua madre te la dà Dio la benedizione quando tu onori padre e madre la Bibbia dice onora padre e madre affinché tu possa avere lunga vita e quindi è importante che le parole devono essere espresse e devono essere manifestate ai propri genitori in modo efficace e così voglio lasciarti questa sera se ti è servito questo insegnamento questo incoraggiamento non lo so vedi un po' tu questo è quello che Dio mi ha messo nel cuore quest'oggi ho chiesto questa mattina Spirito Santo cosa vuoi di cosa vuoi che parliamo perché non sto parlando solo a te sto parlando anche a me mi sto come dire sto educando anche a me non sono arrivato mi metto in discussione anch'io mi sto educando anch'io voglio essere un papà migliore per mia figlia anche se mia figlia è già sposata ma voglio essere un papà migliore per mia figlia per tutti i figli spirituali che Dio mi ha dato l'onore di poter crescere lo voglio fare con amore e con rispetto così prima di chiudere questo tempo che abbiamo passato trascorsi insieme vogliamo invece pregare apriamo con la preghiera chiudiamo con la preghiera e chiediamo che la benedizione di Dio possa raggiungere la tua casa la tua famiglia il tuo matrimonio la vita con i tuoi figli la vita con i tuoi genitori padre nel nome del Signore Gesù Cristo questa sera ti voglio ringraziare benedire per l'onore che abbiamo di ascoltare la tua parola io ti prego Spirito Santo questa sera Signore che la tua parola questo insegnamento questo incoraggiamento questa esortazione arrivi al cuore dei figli al cuore dei genitori Signore e che tutto possa essere fatto con ordine con decoro che ci siano figli ubbidienti ai genitori Signore figli sottomessi figli che onorano i genitori che ci siano Signore genitori che sappiano insegnare i propri figli educare i propri figli e genitori che possano essere un buon modello per i propri figli questa sera io voglio benedire tutti i padri voglio benedire tutte le mamme voglio benedire tutti i figli e ti chiedo Spirito Santo che la tua benedizione possa arrivare in ogni casa in ogni famiglia in ogni genitore in ogni figlio nel nome potente del Signore Gesù e voglio reclamare Signore quello che dice la tua parola che negli ultimi tempi tu avvicinerai il cuore dei figli verso i padri e il cuore dei padri verso i figli io ti chiedo Spirito Santo che in questa stagione ci sia avvicinamento di cuori dai padri verso i figli figli verso i padri figli verso i genitori madri verso le figlie e verso i figli nel nome potente del Signore Gesù voglio rilasciare la tua benedizione la tua grazia su tutti coloro Signore che guarderanno questo video tutti coloro che ascolteranno questo video voglio rilasciare la tua benedizione Signore su questo territorio meraviglioso del Friuli Venezia Giulia e sulla nazione dell'Italia nel nome di Gesù Amen Amen Ci vediamo prossimo venerdì trattando sempre argomenti sulla famiglia Dio ti benedica ci vediamo alla prossima Dio ti benedica